Buongiorno ragazzi, mi sembro preoccupante con questo, guarda, uah, 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 fighissimo no? Questo è il mio spolverino, questo mi aiuta a spolverare in alto, ovviamente devi mettere l'attrezzo qua sopra, però questa è la mia prolunga della mia spolverino, per le zone complicate della mia pulizia, per oggi lo useremo come bastone. E io parto quando vedo cuorecini, perché ieri ho fatto la mia lezione, i cuorecini non mi sono arrivati, ragazzi, io voglio vedere tanti cuorecini, io vi mando cuorecini, io mando tutta quella positività che ho nel corpo e voglio vedere anche da parte vostra, vediamo se sta con me oggi, ogni tanto Facebook, eccolo, è partito, anche thumbs up, positività, cuorecini, io non comincio finché non vedo cuorecini, eccolo là, lo sai perché? Perché io ogni giorno mi spengo, siamo su 6 di 21 allenamenti, che io dedico a voi ogni mattina, anche se è dominica, e di conseguenza voglio un po' di umor dall'altra parte, perché innanzitutto i cuorecini sono gratuiti, se mi rimane, ecco, grazie, allora, un cuorecino, ma quanti, siamo stitici con i cuorecini stamattina, ecco, due, con la manina puoi fare anche tic 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 tic, quelli sono gratuiti, non è che qualcuno ti punisce se tu fai più di uno cuorecino, allora, mettiamo il nostro bastone dietro, scusate, mi giro perché non era la più elegante delle inquadrature, eccoci qua, ecco me, tre cuorecini, dai ragazzi, ma avete preso il caffè stamattina, io vi prendo un po' in giro, non sai più che vi prendo un po' in giro, perché l'amore è gratuito, un sorriso è gratuito, mandarmi i cuorecini è gratuito, questo allenamento è gratuito, ma perché lo faccio, me ne avreste mai domandata, perché mi dedico il tempo ogni mattino a voi, onestamente, allora, noi mettiamo, fianchi sono bloccato da da sedia, busto leggermente in avanti, mani qua, porto la spalla in avanti, porto la spalla in avanti, così oggi andiamo a lavorare su un rotolino leggermente indietro la schiena e continuiamo. Lo faccio perché è il mio contributo al mio circuito o circolo ristretto di esseri umani, perché io ieri ho pubblicato una cosa dicendo, se io sorrido a qualcuno, è probabile che mi risorridano, e ho sentito soltanto tante persone dicendo, no, non sorrido a nessuno, no, mi hanno fatto male, non credo più, non provo più, io sono qui, io sono lì, esattamente dove voglio arrivare. Tutti vogliono cambiare il mondo, ma nessuno vuole cambiare se stesso, detto dal mitico Nelson Mandela, che per la pace è passato circa 23, 27 anni in prigione. E quello che voglio dire è che l'amore deve partire da noi, il perdono deve partire da noi, l'esercizio deve partire dalla nostra forza della volontà. Cioè, io quando cambio il modo che guarda il mondo, il mondo cambia intorno a me. Ovviamente sto dicendo, se c'hai qualcuno che prende il tuo sorriso e non te la controcambia, non ho detto di rimanere là da martire e continuare a regalare la tua positività. Questo no, però li puoi allontanare, ma non vuol dire che tutti gli esseri umani sono cattivi, vuol dire che tu stai provando di sorridere nel posto sbagliato. Da qui andiamo destra e sinistra e vedete che la sedia mi costringe i fienti a stare fermi. Abbiamo i naritesi, destra e sinistra, mi tiro dentro la pancia, anche se non lo potete vedere, sto tirando dentro il mio umbilico e continuo ad ondolare, perché con questo challenge lo facciamo 21 giorni. Ogni giorno vedrete uno di questi allenamenti per andare a tingere e lavorare sul nostro punto di vita. Continuiamo a dormire i tesi. Memorizzate e condividete questi video sul vostro bacchetto, così ce l'hai sotto mano, così dall'1, 2, oggi siamo al giorno 6, c'hai già 6 giorni di allenamenti gratuiti, sulle vostre, ecco, grazie per le vostre thumbs up, grazie, ok, adesso stiamo riscontandoci su una domenica, poi tra l'altro qua esimale, una domenica che tra due settimane sarà Pasqua, io sono molto credente, sono molto contenta di questo, ma torniamo su questo discorso. Allora, molte persone, quando io parlo della positività, che vuol dire? Io sono positiva e lo forse positivismo, vedendo il bello nelle persone, le belle delle situazioni e quando la situazione non mi convince, sto zitta, sto ferma. O mio lontano, vado a fare altrove, perché sai quelle persone meravigliose, meravigliose e conosciute nella mia vita. Oggi, per esempio, vado ad Isernia, da Mirko Calabrese, farò una meravigliosa masterclass in pomeriggio, sono molto contenta e vedrò persone meravigliose, meravigliose, è un paese un po' più, diciamo, lontano dai grandi centri, dove la gente ha una tanta genuità, tanta, tanta bellezza, sorrisi smaglianti. Perché due persone mi hanno calpestato i piedi? Non vuol dire che tutto il mondo è un approccio tremendo, basta! E non è neanche una gara che dicevo, ti rendo conto quello che mi hanno fatto? Sì, hai ragione, allora, perfetto, hai ragione, ma ogni volta che rimani là e ripassi sopra quello che ti hanno fatto, l'unica persona che incupisce sei te stesso, quella non gliela frega niente. Se niente gli hanno calpestato i piedi, loro, dell'essenza di vergogno o di spiacere, non ce l'hanno o altrimenti non ti avrebbero calpestato i piedi. Si dice, non andare a cercare la felicità là dove l'hai perso. Così, quando ti dico, amici, sorridete, sorridete nella fila del supermercato, sorridete quando state per strada, sposti e dici, prego signora. Quello piccolo gesto strapperà un sorriso dal signore e dal signore, comunissimo gentilezza di una volta, una bella, bella cosa, perché ti fa sentire meglio te, ti fa sentire meglio loro e l'eleganza sarà sempre l'eleganza. Oh, quando ci piace l'eleganza. Io sono convinta, uno e due, sposto e sposto. Non esagerare con la spalla, se ti dà passi di la spalla potete anche portare le braccia di fronte a voi. Non esageriamo. Ma la gentilezza, ok, è gratuita e ti rende a te. Cioè non abbassarti a livelli di altri, quelli burboni, quelli cazzoni, quelli tutti irrabbiati. Io sono pigra per questo e non riesco a cominciare per quello. Sono cinque minuti, ma te vi saluto. Non tocco, no, in questo momento non sto agendo né sulla tua anche, né sul tuo genocchio, né sulla schiena. Smettete di dire no, ma sono più. Alzati, alzati, alzati. Vai, su, 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 su. Andiamo a mandare altri cuori, dai. Mi sento che avete bisogno di un po' di positività oggi. Allora, ti dico una cosa. La vita mia è stata abbastanza, tipo una sorta di montagna russa e io comunque sono ancora qua sorridendo, lo sai perché? Perché il miglior rivincita è una vita ben vissuta, pieno di felicità, pieno di energia, pieno di sostenere gli altri. Ieri sono stata all'università cattolica con i cardiologi dell'equipe di Germelli, policlinico Germelli, per parlare del trampolino, per parlare della longevità e io sono stato un relatore con la CREM, la CREM dei cardiologi italiani e per me, grazie, grazie per l'opportunità, grazie per la possibilità di lavorare con questi grandissimi, diciamo, medici e fra poco cominceremo anche a fare, se volete, fammi sapere se volete, cominciamo a fare tantissime intervisti con questi professionisti, medici, ok? Gente che hanno studiato 12, 13, 14 anni per avere il loro titolo per parlare del benessere. Se vi piace questo concetto, datemi un po' di codecini, scrivetemi sotto perché per fortuna il mio lavoro mi fa interagire con medici, con primari, con professori che insegnano alle università italiane della medicina dove possiamo un po' fare una SCREMATA di quello che sentiamo in internet perché a volte sentiamo un sacco di cose che non sono medici, ok? Non sono persone che dicono, ed è pericoloso per certi versi che poi arrivano al medico e dicono ho sentito su internet che non devo fare questo cura, non devo fare quest'altra cosa, che ragazzi andiamo dai professionisti quando dobbiamo andare dai professionisti e se vi piace questa idea cominceremo prestissimo già con la mia amica dottoressa Montessanti che è un cardiologo di parlare dei scompensi cardiologici che cosa si significa poi ho amici ortopedici ho amici che sono endocranologi e noi possiamo veramente cominciare a fare delle domande anche per le mie amiche che sono in menopausa se vi piace cominceremo questo viaggio insieme e per il resto ragazzi allenatevi positivismo, alluniamoci tutti i giorni, tutto aiuta e smettiamo di essere ecco, grazie per il cuore io mi abbraccio mi sto facendo un abbraccio questo è un abbraccio grazie perché avete capito smettiamo di aspettare che la felicità ci arriva mandiamo noi la felicità e la felicità poi sarà felice anche durante le tempeste anche durante le cose difficili vediamo se riusciamo a far arrivare i fuochi di artificio non so provo ce l'ho fatto fuochi di artificio balliamo 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 vi voglio bene buona domenica a tutti e se siete ad Eservia più o meno verso le quattro sarò da Mirko Calabresi a fare super jump ragazzi a saltare insieme venite anche soltanto per vedere perché oggi sono carica a mila sono carica a paletoni e noi andremo a fare una lezione super gasatissimo va bene vi aspetto ad Esernia vi voglio bene e passate una giornata beatissimo il terzo ultimo sì terzo ultimo o penultimo penultimo domenica prima della Pasqua giusto? perché ci siamo ancora due ciao